Al voto manca ormai poco più di un mese e con la presentazione delle candidature i partiti hanno completato gli adempimenti necessari per partecipare alla competizione elettorale. Il 4 marzo segnerà anche il debutto di un nuovo sistema, ribattezzato comunemente Rosatellum. È un sistema misto, maggioritario e proporzionale che prevede 232 collegi unnominali per la Camera e 116 per il Senato, ciascuno dei quali avrà il proprio vincitore. Il Rosatellum prevede un candidato in coalizione e un listino bloccato legato a ciascuna lista, nessun voto disgiunto e una ripartizione dei seggi sulla quale peseranno anche le cosiddette quote rosa. Per la corsa romana le dinamiche nazionali si incrociano inevitabilmente con quelle locali provocando piccoli o grandi terremoti causati da decisioni piovute dall'alto e che impongono scelte optorto collo. Esempi di casa nostra sono la deputata fanese di Libri Uguali di Grasso che non correrà a Marche Nord per lasciare il posto alla collega Beatrice Brignone di Senigallia imposta da Pippo Civati a cui serviva un collegio sicuro e che invece dovrà correre tutto in salita a Marche Sud. O come la senatrice Camilla Fabri che con un ghigno tirato ha accettato, non con qualche mal di pancia e dopo attenta valutazione, lo scambio con il verde Andrea Bonelli all'asserato nel collegio 1 di Pesaro per accandidarsi alla Camera nel collegio di Fano Senigallia, essendo stato quello di Pesaro blindato per il ministro dell'interno Minniti. Ma vediamo nel dettaglio i politici di casa nostra che corrono per un posto dei 630 disponibili nella Camera e i 315 per il Senato. Un nominale Marche Camera, 6 collegi. Il collegio 5 di Fano Senigallia vede per il PD Camilla Fabri, nel centrodestra Elisabetta Foschi, per i 5 stelle Maurizio Cattoi, ex comandante forestale di Pesaro, nel collegio 6 di Pesaro, per il PD Marco Minniti, il centrodestra presenta Anna Maria Renzoni, i 5 stelle si candidano con Andrea Cecconi. Proporzionale Camera, collegio Marche Nord, Ancona Pesaro, nel PD Alessia Morani, Forza Italia Elisabetta Foschi, Lega Nord il fanese Luca Paolini, Fratelli d'Italia l'avvocato di Pergola Antonio Baldelli, Movimento 5 Stelle Andrea Cecconi, Liberi Uguali Grasso, la senegalese Beatrice Brignone, mentre la fanese Lara Ricciati, sempre per Liberi Uguali, correrà nel collegio Marche Sud, Ascoli Macerata, Fermo.